Ciao ragazzi, spero che stiate tutti bene, oggi siamo qui in questo nuovo video e oggi parliamo di catene per le motoseghe. Questo video vuole essere il più breve possibile, il più chiaro possibile, così da creare meno fraintendimenti e magari per chi è inesperto e per chi ha le prime armi, che ci stanchi, io all'inizio non sapevo niente di queste cose, sono andato su YouTube, quindi magari questo video potrà servire a tutte quelle persone che sono agli inizi. Qui con me ho questa catena, è la catena semplicemente composta da dei denti che svolgono la funzione di tagliente, delle maglie che servono a collegare i vari denti e questi denti che servono per il trascinamento della catena, che scorrono, alla fine questi denti qua scorrono all'interno della nostra barra e vengono trascinati da quello che è il pignone della motosega. Quindi questa è una catena, ce ne sono tante con varie specifiche, però essenzialmente le specifiche principali che dobbiamo ottenere a mente sono il passo, che è la distanza fra un dente e l'altro. Questo ad esempio ha un passo di un quarto di pollice, ce ne sono tanti altri passi, ve li metto qua nel video, così da non stare qua mezz'ora a definire tutti i vari passi. E questo passo essenzialmente è definito, ce lo impone diciamo, quello che è il pignone della nostra motosega. Ce ne sono tanti i pignoni, ad esempio io ho qua questa motosega che viene venduta con vari passi. Abbiamo questo qua da un quarto di pollice, può essere anche venduta con il passo da tre ottavi, però quello micro, perché c'è anche quello per ottavi più grande per le motoseghe professionali, tipo la mia Uxfarma 372XP, che è una catena decisamente più grande rispetto a questa, perché ovviamente la potenza è maggiore, quindi servono denti più grandi, può asportare più materiale, quindi di conseguenza è tutto maggiorato. Dopo il passo abbiamo lo spessore della nostra catena, che non è tanto lo spessore questo, ma lo spessore del dente che entra all'interno della barra. Quindi capiamo bene che se andiamo a scegliere uno spessore errato, possiamo avere o una catena che balla all'interno della guida, o una catena che va ad usurare quella che è la nostra guida. Quindi se mettiamo un esempio, prendiamo una catena che è spessa 1.5 mm, la mettiamo in una barra spessa 1.3 mm, la catena andrà ad usurare, a mangiare la guida, e quindi non è una cosa bella. Quindi fate attenzione allo spessore della barra, che qua si può veramente fare una gran bella cagata, detta in modo abbastanza volgare. A queste specifiche abbiamo ovviamente anche il numero di maglie, che questo è vincolato, diciamo, dalla lunghezza della nostra barra. Più la barra è lunga, più denti ci saranno, più maglie ci saranno, e quindi questo dato viene solitamente scritto sulla barra. E adesso questa non so quanti denti abbia, però se adesso questa è una barra e le stampigliature del numero di denti specifiche vengono scritte solitamente in questa fascia, in questa zona qua, incise al laser, così da poterle leggere. Oltre a queste specifiche, che sono quelle, diciamo, di base, ce ne sono altre che sono un attimino più, diciamo, avanzate, ovvero la distanza fra un dente, diciamo, tagliente, a un altro dente tagliente, ovvero questa è una catena che è full comb, ovvero abbiamo un dente, uno spazio, un dente, una maglia che fa da spazio, un dente, una maglia che fa da spazio, e così via. Ci sono altre catene che invece hanno un dente, due spazi, un dente, e quelle lì vengono chiamate full skip. Poi abbiamo le semi skip, che abbiamo un dente, due spazi, un dente, uno spazio, e l'altro dente. E poi abbiamo ancora due spazi, un dente, uno spazio, un dente, due spazi, e così via. Quella lì è la semi skip. Poi ce n'è un'altra ricatena che adesso, mi spiace, ma non mi ricordo il nome, se mi viene in mente o se lo trovo su internet, lo metto in sovrimpressione, che sono catene che hanno solo denti, quindi abbiamo un dente sinistro, un dente destro, sinistro, destro, sinistro, destro, e non abbiamo spazi. Ovviamente più denti ci sono, più ci serve potenza, perché ogni dente, diciamo, ci va a sottrare un po' di potenza. È per questo che vengono utilizzate catene skip o semi skip su macchine che devono tagliare grandi dimensioni di tronchi. A meno, ci sono meno denti, la catena gira più veloce, e non si ingolfa la motosega. Oltre a queste caratteristiche, abbiamo anche la tipologia di dente. Questo, ad esempio, è un dente che, vabbè, è piccolissimo. Vediamo se riesco a farvi vedere qualche dettaglio. Prima questo è un dente col profilo leggermente stondato, ovvero questo spigolo qua non è uno spigolo, ma ha un raggio leggero. E quindi, avendo questo piccolo raggio, ci aiuta ad avere un taglio più, diciamo, morbido, più fluido quando andiamo a tagliare rametti, piante piccole, roba piccola. Ed è per questo che all'interno, infatti, questa catena viene montata su una barra da, su una motosega da putatura. Ce ne sono anche di altre tipologie, anche col raggio più grande. Quindi abbiamo una catena detta round, appunto, raggiata, col raggio. Poi abbiamo le semi-chisel, che è questa, con un raggio però non così grande da essere definita round. E poi abbiamo le full chisel, che sono proprio quelle che hanno un raggio piccolissimo. Non è che non c'è raggio, il raggio c'è, sarà di qualche decimo. E quindi abbiamo proprio uno spigolo che è estremamente tagliente, però allo stesso punto è estremamente, diciamo, soggetto a usura. Infatti, quelle catene vengono utilizzate in ambito, diciamo, forestale. Ottime, perché hai una bella velocità, una bella precisione, strappa bene il materiale. Sono veramente ottime, infatti, per 172 XP ho una catena di quel tipo. E di contro abbiamo che, se le andiamo a utilizzare con dei tagli, ad esempio, potature, roba piccola, roba dove ci possono essere i sobbalzi, non è ben consigliata, perché tende a sobbalzare di più, non è così morbida come aggressività, come una di queste, semi-chisel oppure come una round. Quelle raggiate, diciamo, che sono più consigliate in ambiti dove c'è un'usura maggiore, magari anche per lavori di carpenteria, dove il legno è secco, queste cose qua. Poi, altra tipologia di denti, abbiamo le catene alvidia, che sono leggermente diverse rispetto a queste, perché vengono appunto applicate delle placchette invidia che rendono il dente eterno, anche se non vai a tagliare qualcosa vicino al terreno, come dei ceppi, delle radici. Ti aiuta tanto a mantenere l'usura controllata. Quelle catene lì io personalmente le consiglio a chi le utilizza vicino a ceppaie, a chi deve magari tirar via delle radici, zone in cui magari è pieno di terra, pieno di sassi, quelle lì sono veramente ottime. Oppure magari anche per chi lavora in certi cantieri o cose di quel tipo lì, dove magari non ti serve avere prestazioni elevatissime, velocità di taglio estreme, ma dove ti serve una catena che duri nel tempo e che non stai lì sempre ad affilarla. Quindi poi, altre caratteristiche le possiamo trovare nella tipologia del limitatore di profondità. Questo ad esempio è un limitatore di profondità che io definisco singolo. Ce ne sono altri in cui ne abbiamo due, ovvero uno questo, uno sull'altra maglia, che averne due fatti in quel modo, qua adesso vi metto qualche immagine, così mi spiego un po' meglio, aiuta ad evitare i sobbalzi quando vai a entrare di punta all'interno del legno. Ti aiutano tanto a quell'aspetto, mentre se non ti serve avere tutta quella sicurezza, perché magari sei più esperto che è preferibile il dente singolo, che fai anche meno fatti a limarle. Che altro dire riguardo le catene? Ce ne sono tante, varie marche, fatte con vari materiali, vari trattamenti, ogni marchio veramente ha il suo, però se andate ad acquistare catene, Oregon, Steel, Uxvarna, sono tutte lì, c'è chi preferisce le Steel, chi è l'Uxvarna, chi è le Oregon, su un catene che ormai più o meno sono arrivato allo stesso livello, più o meno sono fatte con lo stesso tipologico di materiale, anche i trattamenti termici. Ormai non penso che ci sia dietro una scienza, è da 50 anni che tutti questi marchi fanno catene, quindi più o meno sono lì. Io personalmente consiglio di scegliere un marchio rispetto all'altro in base ai rivenditori che avete più vicini in zona. Ovviamente sconsiglio quelle catene che sono di importazione cinese, realizzate con materiali di dubbia provenienza, di dubbia qualità, con ovviamente trattamenti che lasciano un po' il tempo che trovano, perché uno magari non sono omologati, quindi è probabile che si vadano a spezzare, a rompere, magari ti parte un pezzo ogni dente, non è una cosa simpatica, e poi la differenza di prezzo non è così esagerata da dire. Sì, ovviamente quelle cinesi costano nemmeno, però se fate conto che una buona catena ti dura al doppio, avete già capito il discorso. Questo, diciamo, voleva essere un video spiegazione, chiaramente riguardo a tutti questi ambiti, che sono parecchio tecnici, parecchio difficili, un po' noiosi, perché agli inizi capisco che ingabolarsi dentro, in tutte le specifiche, sia un po' noioso, però ci vogliono un po' di base, e meno da fare l'acquisto giusto, perché è veramente facile acquistare la catena sbagliata, basta uno spessore diverso, un passo leggermente diverso, e si va a rovinare quella che è la nostra macchina, quella che è la nostra barra, che magari rovinare la barra è il male minore, la prendi, la cambi, la dispi, rovinare la motosega, quello è già più complicato, perché devi aprire il pignone, togliere, magari cambiare la frizione, il blocco, tutto, metti, svita, fai, dis, non è simpatico, qua inizia a farsi un po' buio, e quindi vi devo lasciare, io vi ringrazio per la visione, spero di essere stato chiaro, vi ricordo di iscrivervi al canale, perché a breve arriverà un video su come affilare le catene col tondino, che è un video che attualmente non è presente sul mio canale, e penso che sia abbastanza richiesto, quindi iscrivetevi per non perdervi il prossimo video, e noi ci vediamo in un prossimo video. iscrivetevi per la visione, e noi ci vediamo in un prossimo video, e noi ci vediamo in un prossimo video, e noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie a tutti.